Salve a tutti da Arpavi, oggi andiamo a fare colazione al bar Silvermoon di Luca che ha tenuto in stallo il pit tutta la notte per ringraziarlo, siamo venuti proprio qui personalmente e andremo proprio a mangiarci anche qualcosa perché questo è un gran bel bar e si trova a Priverno in provincia di Latina. Stiamo facendo Cappuccino e Cornetto da Luca, un bar bellissimo, si mangia bene e poi venite a ringraziare anche voi con un caffè e una colazione per lo stallo del pit tutta la notte e adesso è arrivato anche già nella sua nuova casa. Buona navigazione da Arpavi, io intanto non magno qualcosa perché è mattina presto e ci ho fame. Grazie a tutti.